Ma che è stato fatto con la figlia di Anna Carmela? Che è successo? Non parliamo proprio bene, non parliamo proprio. Un pasticcio rosso. Ma niente bene che va a una luana coscia. Una macchina distrutta, meno male perché si è fatta poco e niente. Come? Chi l'ha intrusata la luana coscia? Sta a luana coscia. Ma che è stata la mutazione della coscia? A chi è stato stato stato? Fino le ditte tu. Ho messo l'ospedale per un accertamento. Ma non è che... No, no, no. Vabbè, voi stamattina mi avete detto due cose precise, prima di venire. Io mi ricordo pure. Ma avete detto che vogliono tenere l'assicurazione? No, signor, non è che l'assicurazione. Ma avete detto un po' l'anumicino urbano che è passato in un uomo a questo e l'altro. Ma avete detto che si è ristrutto la coscia e che aiuta a finire l'ospedale. Prima di venire mi avete detto e forse, forse al 99% subisce un'amputazione. Imputazione animale! E vabbè, ma non è necessario coscia, scusate. Ma non è, ma ti metto pure tu con chi? E certo, ma ne... L'amputazione è una cosa, l'amputazione è nena, devi capire? L'amputazione è quando dice leva la lingua a chillo. E l'amputazione è quando ti fa cangallare perché uccide! Ma non c'è! 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 Ho facettano le estremostioni, ma ricorda! Le estremostioni? Oh, piccino, come hai già fatto una d'arca? No signore, tu hai nuovi posti e uno mi rende, e io fai un veneto proprio e devo fare un telestremo stile! Mamma mia, quando mi è cammino! Purtro da chi si indossi? No, non c'è un telestremo, non c'è un telestremo. Ehm, mi ha già fatto! Ehm, mi ha fatto l'amputazione! E beh, chi non ha la telefonata pure a mamma? Che l'ha ritorno dell'ospitale che stanno lo andando alla costa a via! A Carmelo! Ehi! 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 Ehi, la cosa che faccio, va' no disco e non lo andando all'ospital! Ma mia mia, come ha detto questo è il signore! Ma, la mia mia, come ha detto questo è il signore? Ma mia, come ha detto, sotto com l'annun centro alla stile! Ma, come ci faccio? Ma mio, come ho fatto il signore? Ma, come ha detto questo è un signore! Ma, come ho fatto! Ma, tu hai fatto! No, behorò, no, bello! A tè? A me... A es? Ma, qui stanno! Ma, qui stanno! Oì? No, e chi sta? Chi sta? Ma un becchia!